Radio Cusano TV Italia Oggi andiamo oltre oceano per parlare delle conseguenze della pandemia di coronavirus in America Latina, conseguenze anche dal punto di vista economico, sociale e quindi anche della fame in questa regione del mondo. I contagi, ricordiamo, accertati in America Latina sono ormai circa 800 mila con una crescita molto forte nelle ultime ore di 32 mila unità. I decessi sono oltre 43 mila. Questi i dati nella regione. Vediamo i paesi più colpiti in Brasile, il paese in assoluto più colpito della regione, anche il secondo al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti. Ci sono ormai 400 mila casi di contagi accertati e venne oltre la metà, 25 mila, delle vittime totali della regione latinoamericana. Poi seguono il Peru con circa 130 mila contagi e circa 4 mila morti e poi il Cile in terzo luogo con 78 mila contagi e 800 morti. Quindi vogliamo parlare, come abbiamo detto, delle conseguenze di queste cifre, di queste drammatiche cifre nella regione latinoamericana e anche, diciamo, di una situazione di insicurezza alimentare che c'era già da prima e di come la pandemia sta aggravando tutto questo dal punto di vista, come dicevamo, economico e sociale. Per fare un'analisi di tutte queste questioni abbiamo in collogamento la nostra ospite Benedetta Lettera, responsabile geografico America Latina della organizzazione Azione contro la fame. Grazie Benedetta di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Partiamo subito dalla prima domanda. Vediamo un po' questi dati economici della Commissione, in questo caso economica per l'America Latina e i Caraibi, che dice che si estima un aumento della disoccupazione a causa della pandemia che genererà circa 30 milioni di nuovi poveri nella regione. Anche un calo del PIL del 5%, un aumento della disoccupazione dell'11%. Ecco, come sta colpendo la pandemia, l'economia e la vita delle persone dei paesi latinoamericani? Effettivamente i dati economici, la proiezione economica che fa la Commissione economica per l'America Latina sono preoccupanti perché già prima della pandemia a livello regionale si era smesso di avanzare in certi indicatori che è a chiave, come può essere il crescimento economico, la crescita economica, ma anche la lotta contro la fame. Infatti in America Latina, prima della pandemia, già c'erano 178 milioni di persone in situazione di insicurezza alimentare. Questa è una terza parte della popolazione del continente. Con il lockdown e le misure che giustamente tutti i paesi stanno prendendo per fermare la pandemia, la situazione peggiorerà. E appunto si proiettano 29 nuovi poveri nella regione, 16 milioni di persone in povertà estrema. Quindi la nostra preoccupazione è questa, come questo avrà poi un effetto, già lo sta avendo, però come avrà un effetto sull'accesso agli alimenti e quindi alla situazione di nutrizione della popolazione, soprattutto di donne e bambini. Stiamo vedendo negli ultimi giorni come i numeri della pandemia stanno crescendo molto in America Latina. E volevo anche chiedere, dal vostro punto di vista, con la vostra esperienza sul campo, come sono i sistemi sanitari? Sono pronti per ancora questi aumenti di contagi e purtroppo anche di decessi? Ogni paese è diverso. Evidentemente ci sono paesi con una capacità sanitaria molto più alta di altri. In Centro America, per esempio, in Guatemala la quantità di medici per abitanti è molto bassa. Ci sono situazioni in cui c'è un letto di terapia intensiva per 400 mila abitanti. Quindi dipende molto da paese a paese. Evidentemente i casi continuano a crescere, quindi il servizio sanitario, anche in paesi forti, come può essere Colombia, Perù, sta subendo uno stress importante. Se non è sbaglio, la vostra organizzazione, Azione contro la fame, si occupa da anni di malnutrizione, anche al momento è presente in alcuni paesi della regione, come il Perù, Colombia, anche Guatemala e Nicaragua, questi paesi del Centro America. Analizziamo la situazione in ognuno di questi paesi. Partiamo proprio dal Perù, che come abbiamo detto è il secondo paese più colpito dalla regione. Dopo il Brasile, ricordiamo, 130 mila casi di contagi, circa 4 mila morti. Ecco, com'è la situazione al momento? Quali sono gli effetti del lockdown sull'economia del Perù? In Perù si parla molto del paradosso peruviano, perché in realtà il governo ha stabilito in una maniera molto tempestiva, molto rapida, misure di contenzione del virus. Però in Perù il 70% dell'economia e del lavoro è informale, quindi alla fine è molto difficile che le persone possano veramente rimanere in casa senza uscire a lavorare. E poi ci sono situazioni di base, come per esempio l'accesso all'acqua potabile o ai servizi. In una città come Lima, dove ci sono 9 milioni di abitanti, un milione e mezzo non ha accesso a acqua potabile. Quindi ci sono situazioni di fragilità economica e appunto di un'economia molto informale. E poi ci sono situazioni strutturali dove in grandi città, come Lima, evidentemente hanno bisogno di un approccio, di essere presi in considerazione in maniera più strutturale. In Colombia abbiamo diversi tipi di situazione. Abbiamo da una parte tutto quello che sta succedendo nelle aree urbane, nelle grandi città come Bogotà, che è un po' simile a quello che succede a Lima. E con appunto molto lavoro informale e poi c'è tutta la problematica legata ai rifugiati interni. Non dimentichiamo che Colombia ancora ha una situazione di persone che dovuto alla conflittualità nei territori comunque si continuano a muovere. Ci sono migranti, soprattutto migranti venezuelani. E poi abbiamo tutta una situazione nell'area diciamo rurale e di frontiera che già prima era molto seria. Per esempio se pensiamo al nord della Colombia sono posti semideserti, quindi veramente con enormi difficoltà per accedere all'acqua. E poi abbiamo il caso di Centro America che è molto diverso. Adesso se le sembra dottoressa analizziamo piano piano anche il caso del Guatemala, del Nicaragua, del Centro America. Ci fermiamo un attimo nella Colombia, ricordiamo che sono 23 mila i contagi, circa 800 i decessi. Come lei ha detto preoccupa molto anche la situazione dei rifugiati, dei rifugiati venezuelani anche che in gran parte stavano arrivando in questo paese. Abbiamo visto anche durante gli ultimi giorni, nelle notizie che arrivano dal Latino America, dalla Colombia nel merito, come questi rifugiati venezuelani cercano di rientrare un'altra volta nel loro paese. Perché ecco con la situazione di lockdown è più difficile trovare lavoro anche in Colombia, più difficili le vendite ambulanti. Ecco, com'è la situazione? E' difficile, parliamo dei migranti venezuelani però per esempio anche nello stesso Perù ci sono centinaia di migliaia di peruviani che sono a Lima e che però sono di zone rurali che stanno cercando di tornare a casa. Cioè in realtà in questa situazione tutte le persone che erano in una situazione, che vivevano in posti diversi da quelli a cui appartengono, stanno cercando di tornare a casa. Perché effettivamente vivono diciamo di lavoro informale, di piccolo commercio. E quindi è una situazione preoccupante in generale nella regione, tutte le popolazioni che si incontrano in una situazione di mobilità umana. Abbiamo parlato al momento del Perù, della Colombia, sono due paesi amazonici e anche qui leggiamo nella stampa nelle ultime ore come è molto drammatica la situazione. Perché i casi del coronavirus stanno aumentando in questa zona del pianeta dove anche c'è uno scarso accesso alla sanità. Ad esempio in Brasile il tasso di mortalità tra gli indigenti è diciamo il doppio rispetto al resto della popolazione. Secondo il vostro lavoro in questa area, qual è la situazione? La situazione dell'Amazzonia è evidentemente molto preoccupante. Noi per esempio proprio la domenica siamo riusciti ad arrivare con un aereo a Letizia, che è a 1000 km di Bogotà in Amazzonia, per portare materiale di protezione, lavandini portatili. Sono zone di molto difficile accesso perché si arriva o attraverso i fiumi o in aereo. Evidentemente è una situazione comune a tutte le zone rurali o molto isolate. Anche le stesse comunità indigene in Perù e in Colombia hanno paura del contagio. Quindi ci sono anche auto imposte e un certo confinamento comunitario per non fare entrare persone. Quindi sì, la situazione è preoccupante. Noi lavoriamo da moltissimi in Colombia, lavoriamo da più di vent'anni. Quindi abbiamo una cap... diciamo, le riconoscono. Abbiamo avuto modo di creare una relazione, un rapporto di fiducia anche con le comunità indigene. Per cui riusciamo ad arrivare e riusciamo a poter portare materiali o comunque a prestare aiuto sia in termini di sicurezza alimentare, di alimenti, ma anche in termini di attenzione medica. Parliamo adesso del Centro America, Guatemala e Nicaragua. I dati ci dicono che ci sono 4000 casi di contagio in Guatemala e 800 casi confermati in Nicaragua. Avendo conto anche della situazione economica precedente, che come ha detto all'inizio dell'intervista non era una situazione buona di partenza, come si sta vivendo in questo caso gli effetti della pandemia e del lockdown di questa chiusura delle società in questi due paesi? In Guatemala, prima della pandemia, quasi la metà dei bambini soffrivano di malnutrizione cronica. Quindi Guatemala è un paese... Guatemala soffre tutta l'area del corridoio secco, che si chiama in Centro America, che è una parte della regione dove ci sono secchie. Ogni anno c'è una situazione di secchia molto forte e con poco accesso all'acqua e quindi ci sono situazioni di fame per determinate stagioni dell'anno. Quindi in questa situazione è già di fragilità dello stato nutrizionale dei bambini e delle donne. e il lockdown e la diminuzione di accesso al lavoro e a potersi muovere per vendere i prodotti o per comprarli è un fattore aggravante della pandemia. Certo, invece in Nicaragua, dottoressa, com'è la situazione? In Nicaragua è un paese molto diverso, con un'altra struttura anche di funzionamento e quindi anche lì noi lavoriamo, abbiamo delle attività in Nicaragua che vanno più per la gestione dei rischi e l'appoggio a cooperative e diciamo siamo in un altro livello di intervento. In Guatemala, Honduras e El Salvador, i dati sulla sottoalimentazione infantile sono molto gravi. In questo momento abbiamo un progetto appunto di sicurezza alimentare che coprirà tutta la regione perché evidentemente è molto difficile pensare che anche quando si riesca a controllare il virus che non è detto perché i paesi d'America Latina, come le diceva prima, sono in una fase di crescita di casi per ora nessun paese è arrivato alla curva ed è difficile pensare come si potrà rispondere agli effetti, alle altre conseguenze della pandemia che nel caso di Centro America evidentemente sono legate alla fame e all'assessuale alimenti. Parliamo ovviamente di fame, stiamo parlando con questa organizzazione Azione contro la fame io volevo chiedere anche per il ruolo delle donne in questo momento donne in una regione del mondo che hanno come sempre un ruolo fondamentale nell'alimentazione ecco, come diciamo colpisce anche questa situazione alle donne latinoamericane? Ovviamente le colpisce più che agli uomini, purtroppo la situazione delle donne e dei bambini è quella che ci preoccupa di più, noi lavoriamo soprattutto con donne e bambini e soprattutto donne incinte che stanno dando ancora il latte e preoccupanti, evidentemente sono parte della popolazione più a rischio uno perché sono quelle più esposte, sono quelle che si prendono cura dei malati e hanno questa funzione nella famiglia, un po' come da noi e poi perché evidentemente hanno meno accesso al lavoro e meno accesso a servizi e quindi sì, evidentemente è preoccupante. Per riassumere un po' diciamo come il punto di questa situazione voi azioni contro la fame, in quale aree, in quale interventi state centrando tutti i vostri sforzi in questo momento nella regione per attenuare un po' questi effetti sull'economia, sulla società e quindi anche sul lavoro e come conseguenza sulla fame anche quali sono i vostri principali interventi? Ora da quando è iniziata la crisi stiamo facendo qualcosa che normalmente non facciamo in America Latina e che è distribuzione di alimenti perché alla fine non c'è modo, la prima cosa è avere il cibo minimo e quindi stiamo facendo moltissima distribuzione di alimenti in posti veramente che non avrei mai pensato che avremmo distribuito alimenti come può essere Lima o Bogotà e poi abbiamo una serie di attività sulla salute e anche salute mentale perché non dobbiamo dimenticarsi che tutto l'aspetto psicologico è importante ci sono persone che in questo momento sono in dei campi di rifugiati che vanno comunque appoggiate e la salute mentale se ne parla poco ma è un aspetto fondamentale del lavoro che bisogna fare e poi abbiamo tutta una serie di attività per la prevenzione del virus che sono soprattutto accesso a acqua, buone pratiche di igiene e tutta la parte che verrà subito dopo anche se già stiamo lavorando è tutta la parte di riattivazione produttiva quindi lì dipende un po' dal paese in alcuni paesi diamo un sussidio monetario alle famiglie alle famiglie più vulnerabili che non hanno modo di sopravvivere poi abbiamo dei progetti di accesso al lavoro che facciamo da molti anni Ricordiamo come dicevamo tutti questi aiuti sono necessari perché secondo le stime della Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi ci saranno a causa di questa pandemia degli effetti del lockdown e quindi della disoccupazione circa 30 milioni di nuovi poveri quindi cifre veramente allarmanti noi abbiamo finito il nostro tempo ringraziamo la nostra ospite Benedetta Lettera responsabile geografica di azione contro la famiglia in America Latina dal suo tempo grazie mille grazie a voi grazie noi salutiamo anche a tutti i nostri ospite che ci seguono qui sul 264 del Digitale Terrestre e ricordiamo che potete vedere tutti i nostri contenuti approfondimenti sul nostro canale YouTube e l'informazione continua qui sul 264 un saluto da Belena Larcon grazie a tutti i nostri